Dovete sapere che scrivere libri è un momento liberatorio, lo è per tutti, ma lo è soprattutto per un avvocato che si occupa di diritto di famiglia, perché ne ho viste tante in questi anni, ne ho viste di tutti i colori, in questo pronto soccorso, perché io ritengo che il mio studio sia soprattutto un pronto soccorso più conosciuto legale, perché qua entra gente a pezzi, gente che sta perdendo tutto. Io tanti anni fa pensai di scrivere una sorta di diario di bordo, cioè raccogliere le storie più incredibili, più significative in un libro e quindi decisi di scrivere I perplessi sposi. Feci leggere una parte del libro a Paolo Guzzanti, che è stato un mio caro cliente, oggi un grande amico, e lui mi disse questo è un bellissimo libro, lei lo dovrebbe pubblicare. Diciamo che Paolo Guzzanti in questo è stato decisivo per me. Questo libro ha avuto un successo enorme, I perplessi sposi con Aliberti Editore. Oggi di questo libro abbiamo soprattutto il formato ebook che potete chiaramente scaricare da Google e ho capito che in quel momento il modo più importante per comunicare era scrivere facile, era scrivere in maniera diretta, abbandonare l'avvocatese per parlare in italiano, perché i miei libri dovevano e devono arrivare a tutti. Infatti devo dire che la vendita dei perplessi sposi è stata semplicemente straordinaria e mi ha dato la forza poi di abituarmi a scrivere. Sappiate che io scrivo con la mia penna gialla, con i miei fogli protocollo, lo faccio nei ritagli di tempo, perché la mia vita da Roma a Milano è particolarmente complessa, lo faccio sui tavolini del treno, sulle sale d'aspetto in estate, prendo appunti tutti i giorni sulle storie che mi riguardano maggiormente, quelle che sono passate nel mio studio, ovviamente cerco di evitare di fare i nomi, lo faccio sotto mentite spoglie, in alcuni casi ho parlato di storie con la liberatoria dei miei clienti, ma lo faccio sempre con un taglio romanzato, i miei sono dei libri di letterari, i saggi romanzati, in cui non faccio un saggio per spiegare più o meno l'evoluzione della giudispudenza, gli usi dei costumi, sono dei racconti. Posso parlare di narrativa forense per quanto riguarda i miei libri, perché narro, racconto, ci sono i dialoghi, la disperazione, i pianti, la solitudine dell'avvocato, le mie notti insonnie, racconto questo, racconto anche il volto umano dell'avvocato, un po' una memoria difensiva a favore degli avvocati, visto che spesso gli avvocati sono invisi a molti e invece la gente non si rende conto dell'importanza di un avvocato, soprattutto quando è preparato e quando ti dà una mano, quando è la tua spalla su cui piangere. L'avvocato che spesso si deve caricare del problema del proprio assistito e cercare di salvarlo dal baratro, perché ci sono delle procedure di separazione e divorzi in cui ci si gioca tutto. Quindi io parlo di giustizia negata, di figli contesi, di violenze intrafamiliari e quindi ho scritto il secondo libro, vi dichiaro divorziati, un libro a cui sono molto legato e oggi è edito da Diarcos editore. Dopo alcuni anni ho scritto C'eravamo tanto armati, che è un libro meraviglioso in cui c'è anche la storia di Mina Welby che racconta appunto di ciò che non c'è sul piano normativo per il fine vita, raccontando storie veramente drammatiche di sottotazioni internazionali di minori. E poi l'ultimo l'ho scritto durante la pandemia, La guerra dei rossi, sempre con Diarcos editore. Sappiate che questi libri, adesso sono anche in formato audiolibro e ebook, grazie all'ausilio di tanti cari amici doppiatori del cinema italiano, ma anche di Adiana Panitelli, Valerio De Gioia, Marzia Roncacci e poi Salvatore Miraglia, colui il quale ha organizzato questi audiolibri. Insomma è bellissimo per gli avvocati scrivere, io invito tutti a raccontarsi e a raccontare qualcosa. I matrimonialisti stranieri sono più abituati a scrivere, a raccontare, noi italiani un po' meno. Devo dire che invece è un'esperienza straordinaria, ovviamente bisogna trovare il tempo, bisogna avere la lucidità mentale di scrivere cose che abbiano una originalità e soprattutto sapere che parlare facile, scrivere facile è la cosa più difficile.